Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico tra Badia e B1 variante, per veicoli in avaria tra Incidareggello e Firenze Sud, tutto in direzione nord. Infibili possibili disagi per presenza di personale su strada tra la Strassigna e Scandicci nella carreggiata verso Firenze. Per il traffico urbano di Firenze, per lavori, per realizzare un'isola ecologica interrata per la raccolta dei rifiuti, fino al 22 settembre in Piazza dei Mozzi ci sarà un restringimento di carreggiata. In Via De Bardi e Via San Nicolò saranno istituiti di viete di sosta e attraversamenti pedonali provvisori. Muoversi in Toscana Infia, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!